Nell'home page di OpenCohesione, i numeri, i grafici e le mappe cambiano secondo la scelta dell'utente, che può selezionare come chiave di accesso i finanziamenti, i pagamenti, i progetti o i territori. Cliccando nella mappa dell'Italia sulla Sicilia, vengono visualizzate solo le informazioni relative ai progetti localizzati nella regione. La mappa rappresenta i finanziamenti totali dei progetti con i valori maggiori concentrati nelle grandi città. In fondo alla pagina sono proposti alcuni indicatori statistici su base regionale, per ognuno dei temi in cui sono classificati i progetti. Selezionando il tema occupazione, è possibile scegliere un particolare indicatore e confrontare la Sicilia con altre regioni italiane.